è nuova sigla per la prima volta al 2017 signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale alla fine di ottobre durante lo speciale del terzo anno avevo anticipato che quest'anno avrei voluto cominciare una rubrica interattiva sullo scrivere una quest e dopo appena due mesi eccoci qui grazie 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 il problema che mi sono trovato davanti in questa stagione del canale è quello di spiegare le cose nella pratica senza poterlo effettivamente fare nella pratica io posso stare qui a parlare per ore e ore nei video ma comunque tutto quello che dico rimane pura e semplice teoria non essendo fisicamente lì mentre voi scrivete le quest forse però ho avuto un'idea per riuscire a gestire questa cosa in una maniera utile e anche un minimo divertente in questo primo video quindi vediamo che cosa è venuto in mente che cosa intenzione di fare ma soprattutto quello che voi dovrete fare dopo tre anni di video quali siano gli elementi basilari che un master deve conoscere per poter scrivere una quest oramai li abbiamo visti tutti c'è sicuramente ancora un sacco di roba da cui andare a discutere però se si va avanti a parlare basta senza mai mettere le cose in pratica si riduce il tutto ad essere solamente accademia mettiamola così all'inizio avevo pensato di mettermi a scrivere una quest passo passo e fare una sorta di vlog una sorta di diario di bordo in cui prendevo la quest che stavo scrivendo e man mano analizzavo gli elementi spiegavo il perché delle scelte ma mi sono reso conto che questa sarebbe una sorta di versione estesa della pratica rende perfetti per chi se ricorda quei video il fatto però che sarebbe pratica per me non per voi il fatto è anche che un video del genere sarebbe ottimo per spiegare la parte tecnica la parte meccanica della costruzione di una storia ma lascerebbe la parte divertente quello effettivamente interessante cioè l'inventarsi una quest solamente a me nel caso comunque che pensiate che un video del genere di recap potrebbe essere utile comunque fatemelo sapere piuttosto nei commenti si fa sempre il tempo a farlo non è quello il problema l'idea che invece ho avuto per questi video è fare esattamente il contrario cioè lasciare che siate voi del pubblico a inventare la storia e a prendere tutte le decisioni salienti e limitarmi a fare una sorta di supervisione tecnica ma nella pratica scrivere una quest tutti quanti assieme ok quindi nello specifico che cosa voglio fare semplice per scrivere una quest nella maniera corretta bisogna fare una serie di passaggi che vanno dall'idea iniziale fino alla stesura vera e propria quello che faremo noi sarà in ognuno dei video della serie eseguiremo uno di questi passaggi cioè io spiegherò che cosa bisogna fare nel passaggio che si va a fare voi nei commenti sotto il video scriverete tutte le vostre idee tutte le vostre opinioni le proposte e ovviamente le motivazioni che stanno dietro quelle opinioni quelle proposte rimarranno tutti nei commenti allo stesso video in modo che è una cosa ordinata e chiunque arriva anche nuovo basta che si legga i commenti ed è già automaticamente aggiornato poi in base a cosa salta fuori dalla discussione nel video dopo diremo fondamentalmente che cosa è stato scelto e perché e poi procederemo al secondo passo e via così passo per passo finché non avremo scritto la quest per intero non so dirvi quanti video ci vorranno magari 4-5 forse qualcosa anche di più però vedremo poi come vanno le cose questo è tutto un esperimento mettiamola così in questo modo a tutti viene data la possibilità di contribuire con le loro idee o di dire quali idee degli altri gli piacciono di più o gli piacciono di meno e perché io mi occuperò semplicemente di fare una funzione di controllo tecnico mettiamola così cioè risistemare le idee in modo che il racconto diventi coerente dato che è scritto da molte mani diverse e poi far saltare fuori la quest vera e propria finita che magari potete anche poi riciclarvi e giocarla effettivamente col vostro gruppo anzi in realtà sarebbe effettivamente interessante vedere se vari gruppi giocano la stessa quest e vedere poi come i giocatori hanno influenzato in modo diverso le scelte che erano state pensate dal master all'inizio della stesura normalmente io dico sempre di lavorare per saghe e non per singole quest però per questa volta farò un'eccezione alla mia stessa regola da una parte perché questa rubrica vi avviso è del tutto sperimentale non so neanche se qualcun altro ha mai fatto roba isimile su youtube quindi non so quale sarà effettivamente la vostra partecipazione come andranno avanti le cose quindi non voglio esagerare per cominciare ovviamente più persone partecipano meglio è quindi non fate i timidi e scrivete anche se non siete sicuri dell'idea che volete dire scrivete lo stesso tanto male che vada avrete la conferma che non era una buona idea questo lo dico principalmente per quelli che sono effettivamente neofiti e che stanno magari adesso scrivendo le loro prime quest scrivete le vostre idee almeno avrete un confronto con gli altri e potrete capire se state andando nella direzione corretta o anche no ci ho fatto anche un video su quanto sia importante il confronto con gli altri e anche proprio per venire incontro ai neofiti cominciare a lavorare su un'intera saga un'intera campagna che prevede 20 quest diverse con una durata stimata in tempo di gioco di due anni sicuramente non è un esercizio per imparare a scrivere le quest è qualcosa che risulterebbe difficile da gestire anche per un master con anni e anni di esperienza alle spalle se l'esperimento poi avrà successo e ci sarà riscontro di pubblico mettiamola così sta a voi anche in questo caso si potrebbe comunque prendere la quest che abbiamo realizzato ed espanderla magari collegando altre quest per fare una saga o un'intera campagna o magari cancellare tutto e ripartire da zero però con un progetto più imponente che serva anche ai master più esperti cominciamo quindi con l'esperimento vero e proprio andando a decidere quali saranno proprio le basi vere e proprie della scrittura cioè il tema, lo spazio e il genere il tema è proprio quello di cui si andrà a parlare sarà un epico scontro manicheo del bene contro il male o qualcosa con toni di grigio in cui tutti i personaggi saranno in un modo o nell'altro poco o molto attenenti a una causa sarà qualcosa di un po' triste e introspettivo o sarà magari qualcosa di più scansonato, umoristico da questo dipenderanno poi i dettagli dei luoghi e la caratterizzazione dei PNG all'interno dell'avventura che dovranno essere un riflesso del tema di cui si va a parlare e anche quale sarà il ruolo dei personaggi all'interno dell'avventura stessa saranno degli eroi, degli anti-eroi, dei poveracci a cui si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato e vengono coinvolti in una commedia degli equivoci lo spazio e l'ambiente in cui la quest andrà a svolgersi non serve definire in questo momento tutti i dettagli dell'ambiente anche perché dipenderanno dagli altri due elementi però avere un'idea di quanto potenzialmente vasto sarà lo spazio in cui si svolgerà la fiction in cui sono coinvolti i giocatori questo tornerà utile per sapere quale sarà il livello di dettaglio previsto per i vari ambienti una quest che si espande in vari pianeti all'interno di un sistema solare probabilmente avrà bisogno di molti pochi dettagli ma di molte location diverse una quest che si svolge tutta all'interno dello stesso sgrattacielo in quel caso bisognerà sapere che cosa si trova all'interno del grattacielo piano per piano, corridoio per corridoio il genere è il tipo di racconto al cui canone bisogna andare poi a far avvicinare la quest non è necessario rispettare totalmente i canoni di un genere ma molto spesso uno particolare genere aiuta ad esplorare particolari temi cosa sarà la nostra quest? sarà un fantasy, un racconto di fantascienza, un horror, un giallo, una commedia romantica? potenzialmente una quest potrebbe avere più temi può esserci un horror fantasy o un giallo di fantascienza quale sarebbe secondo voi la cosa più interessante in base anche al tema che avete proposto o quale sarebbe il genere migliore e da quello si potrebbe ricavare il tema avere un'idea iniziale di quale si voglia sia il genere della quest aiuta a setacciare le idee per trovare subito quali sono quelle che funzionano di più e quali sono quelle che funzionano di meno per iniziare a lavorare una quest queste tre informazioni sono più che sufficienti e una volta saputo questo potremmo metterci a lavorare diciamo che per questo video è tutto adesso voglio vedere quali saranno poi le vostre risposte quali saranno le vostre proposte nei commenti mi raccomando scrivete più scrivete meglio viene la serie meglio viene la serie più torna utile a voi quindi in realtà lo fate nel vostro interesse non so ancora dirvi quale sarà la cadenza di questa serie dipenderà molto da quanti commenti arriveranno e come riuscirò a organizzarmi io col lavoro ovviamente più successo avrà la serie più cercherò di anticiparla come vale per tutti gli altri video diciamo che per adesso posso ipotizzare magari di farla una cosa mensile magari come in questo caso la prima domenica di ogni mese in modo da dare un paio di settimane a voi per recuperare il video e scrivere i commenti e un paio di settimane a me per scrivere il video successivo e avere la sicurezza di avere il tempo per registrarlo ovviamente se avete altre idee per la rubrica qualcosa da aggiungere o magari un modo diverso per gestire le cose che vi sembrano migliore scrivete anche quello questa è l'idea che ho avuto io molto probabilmente esiste un metodo migliore per farlo a cui io non ho assolutamente pensato non sarebbe la prima volta che capita come sempre comunque se avete domande, dubbi o perplessità scrivete anche quelli nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella e iscrivetevi per ricevere le notifiche io sono il Master CAE, noi ci vediamo nel prossimo video